Questa è una pianta che ha bisogno di acqua, ma non di eccesso di acqua. Qui è venuta un'esagerazione, praticamente 10 volte più del normale e è andata in assissia radicale. Lei non respira più con le radici perché praticamente ha come il naso tappato e muore. Il danno è totale. Sono circa 500 gli ettari di tabacco flagellati dal maltempo nella Valtiberina Aretina, con danni che supererebbero i 4 milioni di euro. Io sono 70 anni che lo faccio, perché non ho già 90. Ho capito? 70 anni, un lavoro così non mi era mai capitato. Non ha infatti lasciato scampo il violento nubifragio che si è abbattuto sull'Aretino e che ha colpito anche questo territorio. Un evento straordinario che ha concentrato qui una massa d'acqua fuori dal normale. Questa pianta è inutilizzabile? Persa, persa assolutamente. Questa è acqua di sabato, oggi siamo a martedì. Ad Anghiari, Monterchi e Sansepolcro viene prodotto circa il 70% della produzione nazionale di tabacco nero Kentucky, con il quale si confeziona il sigaro toscano. Ha un danno grossissimo, grossissimo e continua ancora a venire perché dopo tanta acqua sta arrivando le temperature che si alzano, una fase di asfissia radicale ed il sole che gli brucia la cima, la testa. In questo momento abbiamo totalmente la perdita del prodotto. Adesso potrebbe essere gravemente compromessa l'intera stagione del tabacco. Male, male. Ci vuole un intervento, speriamo dalla regione, non lo so, ma tu ti chiedono un intervento, quindi voglio dire, è anche dura, difficile che ti possano aiutare, penso. Però insomma senza un aiuto difficilmente si va avanti adesso. Io non credo che riparto senza un aiuto, assolutamente, basta perché non si può assolutamente vedere in un giorno il lavoro di un anno.